Antonello Venditti si rende protagonista di una nuova gaff dopo gli insulti rivolti ad una fan disabile. Nonostante le scuse arrivate poco dopo sui social, l'artista è da giorni bersagliato sul web. Il cantante da alcuni giorni è al centro delle polemiche. Durante un concerto tenuto a Barletta, l'artista si è reso protagonista di una gaff che è diventata virale sul web. Il cantautore si era rivolto in maniera sgradevole ad una fan disabile che aveva interrotto il suo discorso. Venditti si è poi scusato sui social, dicendo che nel buio non si è accorto che si trattava di una ragazza, speciale. Il cantante ha anche rivelato che, dopo il concerto, ha incontrato la fan e la sua famiglia, con i quali ha avuto un chiarimento. Il gesto, però, non è stato perdonato dagli italiani e nelle ultime ore pare che Venditti si sia reso protagonista di una nuova gaff. L'artista sarebbe stato invitato allo Special Festival per cantanti disabili dal direttore artistico dell'evento Beppe Stanco. Quest'ultimo ha mandato l'invito al cantautore romano direttamente sui social. Per recuperare questa defiance, che non ti appartiene, potresti partecipare alla nuova edizione di Special Festival e dimostrare la tua sensibilità nei confronti di queste persone straordinarie. A quanto pare, però, Venditti non ha mai risposto all'invito. Beppe Stanco, noto producer e direttore artistico del Festival per cantanti disabili, ha chiesto via social al cantautore romano di presenziare all'evento. Dopo giorni, però, non è arrivata nessuna risposta da parte di Venditti e allora Stanco ha scelto di fare un altro appello a Today. Antonello non ha mai risposto, né tantomeno la sua social media manager. La cosa mi spiace particolarmente anche perché la notizia, con mio stupore, è rimbalzata parecchio in rete e sicuramente è arrivata alla loro attenzione. Stanco ha rivelato di voler invitare al Festival, che si terrà il primo dicembre alla Spezia, anche Cinzia, la ragazza disabile protagonista della vicenda con il cantante. Iscriviti a Gossip Mania e attiva la campanella per non perderti nessun video.